La verità dei sindacati è un'altra, quella che certificano con una lettera inoltrata ieri alla prefettura, in cui i lavoratori si dicono pronti a lavorare regolarmente, ma senza alcuna riduzione di ore e dunque di stipendio. Della riduzione si sarebbe dovuto parlare prima, non certo poche ore prima della riapertura della scuola, soprattutto se si pensa che le parti hanno avuto tutta l'estate di tempo quando il contratto era sospeso. In mattina portavamo i bambini a scuola perché i lavoratori sono assunti e possono lavorare. La modifica al contratto la si fa quando si raggiunge un accordo e la prefettura aveva preso l'impegno a convocare le parti immediatamente. Dopo un'ora, mentre stavamo lì chiacchierando, arriva il rappresentante dell'azienda di Giacomo Giacomo che dice in modo molto tranquillo che il sindaco ci ha comunicato che domani i servizi sono sospesi. Oggi dichiara che invece noi abbiamo proclamato lo sciopero ed è una cosa gravissima. Faremo questo, noi faremo questo perché l'interruzione l'ha procurata lui, non solo ha procurato l'interruzione di un pubblico servizio ma ne sta addossando le responsabilità ad altri che non ce l'hanno. Una cosa è certa, il disservizio oggi lo hanno pagato e lo continueranno a pagare i genitori teramani e i bambini di Teramo. Eppure le famiglie e la retta per il trasporto scolastico l'hanno pagata e per tempo, regolarmente, i primi di settembre al comune di Teramo. Ma lo scuolabus oggi non è passato lo stesso.